Un maxi incendio ieri pomeriggio ha fatto tremare la città da Pianura ai Camaldoli. Le fiamme divampate da alcune sterpaglie in via Padula a Pianura e alimentate dal forte vento che ieri ha soffiato per l'intera giornata sulla città, si sono allargate sino alla collina dei Camaldoli interessando decine di ettari di terreni a verde. La priorità dei vigili del fuoco è stata mettere in sicurezza le abitazioni rambite dalle fiamme. Sul posto sono state inviate subito due squadre di vigili, una del corpo forestale dello Stato, un elicottero e un canadeo. In un secondo momento sono arrivati anche gli uomini della protezione civile. L'emergenza fiamme ha bloccato inoltre il piano volo dell'aeroporto. Disaggi per quasi due ore a Capodichino, per dare priorità agli interventi aerei sono stati direttati altrove gli atterraggi di otto voli, sei nazionali, uno proveniente da Budapest e uno da Monaco. Regolari invece i decolli. Le fiamme e la nube di fumo dei Camaldoli in fiamme si sono visti per tutta la notte dal vomero e da fuori grotta.